buongiorno aspettiamo un attimo buongiorno non so se forse ci siamo buongiorno quando qualcuno mi vede se mi scrivi che mi senti e mi vedi bene mi fai un piacere, un favore tanto aspettiamo ciao Maria Grazia ciao Miriam ah bene si vede ciao Silvia ciao Milena ciao, ah benissimo benissimo, ciao buongiorno a voi, a tutti quanti grazie per essere qua con me per quest'ora, grazie a tu che la guardi indifferita grazie alle moderatrici che stanno lavorando dietro le quinte grazie Gaetano per aver creato il gruppo grazie mamma, grazie papà altrimenti ovviamente non saremo qua e grazie vita grazie Milena, si vede, si sente bene perfetto benissimo benissimo tra l'altro questa qua è l'ultima l'ultima diretta preestiva ciao Sabina bene, l'ultima diretta preestiva e pensavo di farla appunto sulla sulla presenza, sulla mindfulness proprio per lasciare uno strumento, un qualcosa chiamiamo pure un'attitudine che si possa usare sempre e che può aiutare veramente veramente tanto ciao Katia cosa dite? iniziamo? ciao Valeria ciao bene, bello vederti di mattina anche qua ma sì, io direi che possiamo iniziare oggi parliamo del potere della mindfulness che cos'è la mindfulness? la mindfulness è un termine la parola mindfulness è un termine inglese che letteralmente significa consapevolezza ed è stata creata la mindfulness in particolare da un professore di medicina americano John Kabat-Zinn intorno agli anni 70 e aveva creato la mindfulness per ridurre il livello di stress nelle persone e John era un uomo che meditava tanto aveva praticato diversi tipi di meditazione dalla vipassana era un appassionato di filosofie zen filosofie orientali e ha unito un po' la meditazione e anche la psicologia occidentale per creare questa pratica meditativa di mindfulness che è comunque anche proprio una filosofia di vita io sono anche un facilitatore di mindfulness e la trovo molto molto utile adesso vi spiegherò come farla faremo degli esercizi tutti insieme ma come sempre perché diventi una diretta viva se vi va condividete se sperimentate voi nella vostra vita che fate fatica a essere presenti se avete tanti pensieri insomma qualsiasi domanda inerente l'essere presenti essere consapevoli e buon per cui io dopo che ho fatto il mio che vi ho detto che cos'è adesso vi spiego che cos'è la mindfulness quali sono i principi sulla quale questa si basa come metterla in atto sia in modo formale cioè dedicando del tempo per meditare formalmente ma anche mettendola in pratica sempre poi dopo se avete qualcosa da condividere mi connetto con voi e ne parliamo la mindfulness si basa su pochi punti essenziali il primo punto è il rendersi consapevoli di quello che sta capitando adesso nel presente nella nostra vita il secondo punto è quello di scegliere intenzionalmente dove dirigere la propria attenzione e normalmente si può scegliere di dirigere la propria attenzione se si pratica la mindfulness in modo ufficiale ci si può sedere o a gambe incrociate o su una sedia o volendo anche ci si può sdraiare anche se però sdraiandosi se si è un po' stanchi si rischia poi di addormentarsi e ci si può focalizzare per esempio sul respiro essendo consapevoli e mentre lo dico fatelo anche perché non c'è bisogno di chiudere gli occhi di fermarsi anche certo ovviamente se stai guidando o che puoi anche farlo perché comunque l'importante è che quello che io ti dico quando si dico non chiudi gli occhi tu non chiudi gli occhi e ti rendi consapevole invece di quello che succede dentro di te quello che succede attorno a te per cui ci focalizziamo sul respiro o anche semplicemente su tutto il corpo cioè ci rendiamo consapevoli delle sensazioni fisiche che abbiamo ci ancoriamo ancoriamo ecco la nostra il nostro focus attentivo da qualche parte o sul respiro o sul corpo se vogliamo farlo su tutto il corpo possiamo iniziare a focalizzarsi sulle nostre mani adesso già solo pensando che mi sto focalizzando sulle mani sento come un formicolio alle mani un'energia le sento letteralmente e questa sensazione possiamo poi trasferirla a tutto il corpo dalle mani possiamo espandere questa vibrazione questa consapevolezza dell'energia corporea in tutto il corpo guardiamo i polsi poi gli avambracci gli avambracci poi le braccia adesso dovremmo sentire entrambe le mani e le braccia poi continuiamo sulle spalle poi ci rendiamo consapevoli del petto poi ci rendiamo consapevoli del collo della testa e poi continuiamo a renderci consapevoli dello stomaco della della schiena la pancia i fianchi e poi espandiamo la consapevolezza corporea giù alle cosce poi sentiamo le nostre ginocchia poi continuiamo giù per i polpacci le caviglie i piedi adesso siamo consapevoli di tutto il corpo io sto sentendo il mio corpo lo sento vibrare intanto continuo a osservare a essere consapevoli di quello che succede fuori quello che sento dentro di me e assumo questo è il terzo punto importante della mindfulness assumo un'attitudine non giudicante osservativa e accogliente e anche empatica cosa significa? significa sicuramente avere un'attitudine e un'osservazione non giudicante che non che appunto non giudicano non paragona non critica che osserva solo è empatica nel senso che è consapevole la mia attitudine io sono consapevole che tutto ciò che sto sperimentando dentro e fuori di me è opportuno è perfetto così com'è se mi sto relazionando con qualcuno sono consapevole empaticamente cioè in un certo senso e non significa necessariamente sentire le emozioni le sensazioni che questa persona sente anche se a volte può succedere ma anche se non sentiamo le sensazioni di qualcun altro noi possiamo essere consapevoli che quella persona ha motivi molto legittimi molto validi di comportarsi in quel modo di esprimere quello che esprime di sentire quello che sente questo ci aiuta appunto a non giudicare e a avere un'attitudine aperta accogliente ed empatica la mindfulness in effetti ci insegna ci aiuta a cambiare la nostra attitudine inerente tutto quello che è ci insegna ad amare ciò che è senza desiderare pretendere che le cose le persone fossero diverse da come sono è l'attitudine più efficace per poter vivere bene per poter essere nel flusso gli effetti benefici infatti di questa attitudine mentale ma non è solo un esercizio mentale la mindfulness ci rende consapevoli della connessione che c'è tra la mente il corpo è quel qualcosa che 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 non si può dimostrare che è la nostra anima il nostro spirito la mindfulness ci rende consapevoli che noi non siamo i nostri pensieri noi non siamo le nostre emozioni ci rende capaci di assumere un'attitudine completamente neutra aperta accogliente presente focalizzata nel qui ed ora che non non è però polarizzata vi sarà capitato immagino di avere opinioni contrastanti dentro di voi inerenti magari una persona o una situazione cioè una voce vi dice sì però questa situazione secondo me non è opportuna per me o questa relazione o questa persona e poi un'altra voce un altro pensiero vi dice no però no non è vero questa 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 situazione per me è opportuna questa persona no comunque una persona che in fondo mi piace è valida è tutto un po' ciao Maria Rosa ciao Maria ecco noi potremmo identificarci con il pensiero che ci dice questa persona non è quella che fa per me o questa relazione oppure potremmo identificarci con il pensiero che invece dice il contrario dice sì questa persona questa situazione è quella che fa per me e non sappiamo non sappiamo prendere una decisione se riusciamo a essere presenti e a osservare queste dinamiche interne questi pensieri contrastanti possiamo osservarli e realizzare che noi non non siamo né un pensiero che dice una cosa né l'altro pensiero che dice un'altra cosa noi diventiamo consapevoli di chi siamo l'unica domanda importante è chi sono io la risposta a questa domanda è impossibile forse da darsi perché perché noi siamo possiamo essere sia il tutto come niente ma noi sicuramente siamo quel quel qualcosa che osserva tutte queste dinamiche è quel qualcosa che sceglie né di identificarsi con una dinamica né di identificarsi con un'altra dinamica quando riusciamo a osservare dentro di noi tutto questo traffico di pensieri e riusciamo a non farci travolgere a non seguire l'impulso di di dare retta a un pensiero o un altro pensiero che ci può dire fai questo o fai quello ma ci rendiamo consapevoli del fatto che l'unica cosa importante e la più efficace se vogliamo vivere serenamente è onorare il momento presente riuscire a dire internamente a noi no io adesso non ascolto questi pensieri io adesso sono presente a quello che sto facendo a quello che sto osservando e non sono presente a questo chiacchierio interno quando riusciamo a essere presenti e a non farci portare in posti che non sono il qui ed ora la nostra pressione sanguigna si regolarizza siamo più calmi siamo più rilassati ci apriamo per poter ricevere informazioni dal campo riusciamo a connetterci con la nostra essenza con chi siamo veramente lo vedo sempre spesso e lo avete visto sicuramente se avete mai partecipato a una costellazione familiare cosa succede quando siamo in uno stato di presenza quando siamo focalizzati in quello che sta succedendo ma ma siamo curiosi vogliamo scoprire di più ecco questa attitudine la possiamo avere sviluppare sempre nella vita tutti i giorni la vita è una costellazione se noi riuscissimo sempre a vivere in uno stato di mindfulness in uno stato di presenza dove siamo consapevoli di quello che sentiamo e allo stesso tempo osserviamo essendo aperti a tutte le informazioni che possiamo captare senza cercarle nella mente razionale pensante noi saremmo sempre connessi con il wifi universale con il wifi energetico animico che ci porterà sicuramente in posti che aumentano il nostro che velocizzano il nostro processo evolutivo perché in uno stato di presenza e di non giudizio e di accoglienza empatica realizziamo capiamo che non esiste il giusto non esiste lo sbagliato non esiste il fallimento non esiste la vittoria esistono solo esperienze e tutte le esperienze ci danno qualcosa tutte le esperienze ci arricchiscono tornando al fatto di avere confusione nella mente per esempio una una cosa che molto spesso le persone si chiedono quando incontrano una persona ma lei lui è la persona giusta per me starò sbagliando a iniziare una relazione con questa persona il scegliere di ascoltare la voce che ti dice non farlo o quella che ti dice fallo serve a poco serve a niente prova e vedrai comunque vada andrà sicuramente bene durerà un giorno due giorni una vita però avrai imparato avrai fatto delle esperienze quando invece noi ascoltiamo i i nostri pensieri le nostre convinzioni è come se noi volessimo delle risposte che solo un'esperienza può darci è come se noi volessimo delle delle del del un qualcosa un arricchimento che solo il vivere può darci la mindfulness la presenza ci permette di fare questo ci permette di vivere ci permette di di capire quali sono quegli impulsi che veramente arrivano dal nostro sentire intimo profondo o invece quali sono quegli impulsi quei pensieri che invece sono frutto di condizionamenti mentali di lealtà inconsce o di irretimenti sistemici perché in uno stato di presenza noi riusciamo a sentire questi impulsi a ascoltare questi pensieri che ci dicono comportati così o comportati in un altro modo ma abbiamo l'abilità di osservare e di non tra virgolette salire sul treno o salire sul cavallo quello dell'emozione forte dell'impulso di fare una cosa o di non farla o non so che e possiamo scegliere abbiamo scelta noi possiamo imparare essendo presenti in uno stato di mindfulness possiamo imparare a rispondere alle situazioni invece di reagire automaticamente ci rendiamo conto che c'è un lasso di tempo che a volte sembra poco ma è sempre grande abbastanza per capire che noi possiamo abbiamo una scelta noi non è detto che assolutamente dobbiamo comportarci in questo modo che dobbiamo agire seguendo quell'impulso o quel moto magari aggressivo dove magari prima che prima ci avrebbe travolto noi possiamo possiamo osservare possiamo essere consapevoli di questa carica energetica consapevoli di questo questo pensiero ma quando riusciamo a non identificarci con quell'energia con quel pensiero con questa cosa che prima ci portava dove dove voleva lei noi assumiamo un grande potere questo è il potere della maestria questo vuol dire diventare maestri di se stessi e la scorciatoia non c'è la mindfulness la presenza va praticata va praticata momento per momento giorno dopo giorno vedo che nessuno ha scritto niente ha fatto delle domande allora pratichiamo pratichiamo insieme se potete se puoi a meno che non stai guidando mettiti comodo mettiti comoda se stai guidando guardati poi magari la reglietta più in là io poi comunque sulla mia pagina carico il video sul canale youtube per cui puoi farlo quando vuoi e pratichiamo la mindfulness che poi una forma di meditazione adesso per qualche minuto anche solo per 3-4 minuti ti consiglio di farlo il mattino se puoi appena svegli appena sveglio anche durante la giornata anche più volte durante la giornata se puoi e anche magari prima di andare a dormire mettiti seduto o seduta possibilmente con la schiena dritta poi chiudi gli occhi e focalizzati sul respiro senza controllarlo lo osservi per magari facilitare il fatto che vuoi proprio ancorarti al respiro fai 2-3 respiri profondi intensamente intenzionalmente come se li controllassi fai 1 2 puoi ispirare dal naso ispirare dalla bocca 3 e adesso semplicemente lasci che il respiro si regolarizzi da solo e lo 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 segui fai caso all'aria che entra dai polmoni l'aria che esce intanto però adesso espandi la tua consapevolezza cioè pur essendoti focalizzato sul respiro espandi la tua consapevolezza facendo caso a tutto quello che percepisci attorno a te fai caso al pavimento sotto i piedi la sedia al divano il letto su cui sei seduto seduta i vestiti sulla pelle fai caso alla temperatura dell'aria se ci sono dei pensieri ascoltali osservali ascoltali ma non alimentarli cerca di riportare la tua attenzione sul sul respiro se ti viene più facile puoi come abbiamo fatto prima portare l'attenzione sul corpo inizi magari dalle mani poi porti la consapevolezza dalle mani ai polsi agli avambraccia le braccia le spalle il collo la testa poi vai giù il petto la schiena la pancia lo stomaco i fianchi poi vai giù per le cosce le ginocchia i polpacci le caviglie i piedi ecco senti tutto il corpo vibrare intanto fai caso ovviamente ai suoni che percepisci le mie parole ma fai anche caso a altri suoni se ci sono altri altri rumori e poi rimani in questa in questo in questo ascolto non hai da fare niente c'è solo da essere essere presenti essere consapevoli osservi non c'è un'intenzione nella mindfulness nell'essere presenti assolutamente no basta osservare guardare poi continuando rimanendo in questo stato attento di presenza attiva e rilassata apri gli occhi apriamo gli occhi e continuiamo ad avere la stessa attitudine interna che abbiamo generato quando avevamo gli occhi chiusi cioè rimaniamo consapevoli del nostro corpo rimaniamo centrati in noi stessi e allo stesso tempo facciamo caso alle sensazioni corporee che abbiamo quello che proviamo quello che sentiamo facciamo anche caso a quello che percepiamo con la pelle il pavimento sotto i piedi la sedia il divano il letto su cui siamo seduti i suoni che percepiamo facciamo anche caso ai sapori che abbiamo in bocca i profumi gli aromi se ne percepiamo e visivamente facciamo si caso a ciò che stiamo guardando io per esempio sto guardando l'obiettivo del telefono e allo stesso tempo senza muovere lo sguardo ci rendiamo consapevoli di quello che c'è ai lati al perimetro del campo visivo e adesso senza muovere gli occhi mi rendo consapevole che c'è un quadro che c'è una luce che c'è un un mobile che c'è una finestra che c'è un computer questo esercizio di rimanere focalizzati su un punto ma rendendosi consapevoli senza muovere lo sguardo di cosa c'è attorno a noi dove possiamo vedere ovviamente è molto utile per aumentare ovviamente lo stato di presenza le facoltà attentive e a sottrarre energia alle facoltà mentanti pensanti alle facoltà mentali in questo momento questa è la domanda state pensando più o meno di prima di aver incominciato a fare questo esercizio dieci minuti fa stavate pensando di più di adesso o meno adesso state pensando di più o state pensando di meno se sei riuscito se sei riuscita a pensare di meno in questi pochi minuti semplicemente focalizzandoti sul corpo sul respiro facendo più attenzione a quello che percepisci con gli occhi a quello che percepisci con le orecchie tu puoi continuando a fare quello che stiamo facendo adesso infatti lo dico sempre questo non è un esercizio fino a se stesso per favore non consideratelo come una lezione adesso meditiamo pratichiamo la presenza fallo sempre Silvia scrive adesso non penso proprio bellissima questa cosa benissimo continua continuiamo continuiamo ovvio ci saranno momenti durante i quali ci si dimentica ma ci sta siamo umani ragazzi ci sono momenti quando veramente magari parte l'embolo e sei preso da questa emozione o fai una cosa e poi dici cavolo no avrei voluto non farla ma va bene così però quando ci si ricorda che si può scegliere di essere presenti che possiamo scegliere di pensare di meno lo vorremmo fare sempre di più questo è il bello della consapevolezza del migliorare il proprio stato emotivo è che noi siamo tutti diciamo programmati se possiamo usare questo termine per vivere bene per esperimentare sempre livelli maggiori di benessere per cui ogni cosa che ci fa stare bene in un modo o nell'altro inconsciamente o inconsciamente noi vorremmo riprodurre quello stato di benessere per cui se noi scegliamo intenzionalmente che vogliamo aumentare il nostro stato di benessere e ci impegniamo momento dopo momento dopo momento dopo momento per stare sempre meglio diventerà poi un'abitudine per noi diventerà poi per noi la normalità e quando questo succede voilà il gioco è fatto bellissimo perché poi indietro non si torna si va sempre avanti e questo è il bello dell'evoluzione io non ho mai visto nessuno che veramente veramente ha lavorato su se stesso su se stessa che ha raggiunto degli stati di benessere maggiori e che è tornato indietro no assolutamente no quando si sta veramente meglio si si starà sempre meglio o comunque anche se non si stesse poi tanto meglio si sta se si sta già bene come si sta è già è già una bella cosa Silvia scrive intendevo in questo momento altrimenti la mia testa non smette di pensare grazie Silvia la cosa determinante sai cos'è Silvia non è tanto il fatto che la mente non smette di pensare perché la mente pensa e va bene così l'importante è che si riesca a sempre essere consapevoli che noi non siamo la mente che noi lei pensa ma noi possiamo scegliere che anche quando ci propina per esempio un pensiero che può essere negativo noi abbiamo la capacità di non identificarci con questo di vederlo ma di non esserne travolti e di non lasciare che questo pensiero negativo ci porti giù o faccia sì che noi generiamo poi un'emozione negativa collegata di quel pensiero e che ci rovini la giornata capite qui non si parla di essere sempre completamente in uno stato di presenza dove i pensieri non ci sono no assolutamente no qui si parla di essere consapevoli che noi non siamo i nostri pensieri che noi possiamo se vogliamo pensare meno magari a volte anche non pensare bellissimo ma in questo stato di presenza anche quando non ci sono pensieri vi sarete già accorti comunque sicuramente che poi comunque anche magari un pensiero che arriva può esserci però quel pensiero che arriva quando noi siamo centrati e siamo in uno stato di calma mentale o addirittura di silenzio il pensiero che ci arriva arriva non dalla nostra mente condizionata razionale ma arriva da un'altra parte arriva magari è un pensiero che ci ispira è un pensiero che arriva diciamo dal profondo di noi stessi è un pensiero animico capite e magari è un pensiero però arriva da una fonte differente perché perché siamo appunto siamo in uno stato di ascolto siamo siamo aperti per quello che è l'attitudine che abbiamo in ogni attimo della nostra vita che ci fa vivere bene è in uno stato di apertura l'universo ci ama possiamo permetterci di essere aperti sempre lo so che ci sono persone invece che magari non la vedono così che invece direbbero no apriti solo quando sai che puoi devi proteggerti perché ci sono le energie qui e le energie là a me queste cose non risuonano secondo me queste cose non risuonano perché come dico sempre la difesa è la prima dichiarazione di guerra se io penso che ci sia qualcosa qualcuno da cui difendermi e nella vita non ho un'attitudine aperta è già probabile che io risuono perché questa mia paura fa sì che io risuoni con qualcosa qualcuno per cui io devo essere chiuso io non la vedo così io sono convinto che noi possiamo sempre essere in uno stato di apertura ovvio se poi da questo stato di apertura ti arriva un qualcosa un qualcuno che non risuona con te tanto te ne accorgi anzi te ne accorgi ancora di più se sei aperto ti allontani o qualcosa ma anche lì quando sei aperto quando sei consapevole di essere veramente un tutt'uno col tutto ma non c'è più da preoccuparsi perché siamo sempre lì la polarizzazione il pensare che una cosa è migliore una cosa è peggiore che esiste il bello che esiste il brutto che esiste il male che esiste il bene crea sempre conflitto in noi e dovremmo sempre fare delle scelte mentali che comunque sono basate sul giudizio sul fatto che questa cosa è opportuna questa cosa non è opportuna c'è un paragone un termine di paragone quando io sono aperto ma non vuol dire aperto che io faccio entrare tutto io sono aperto sapendo che quello che è opportuno per me in ogni istante della vita succede e questo questa consapevolezza questa presenza questa apertura che già sta diciamo scremando e facendo sì che vibrazionalmente quello che non risuona con me non arrivi a me Maria scrive ecco è proprio questo che sento sto bene grazie 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 a te prego però grazie a te l'hai fatto tu Maria capite il bello di praticare questo praticare la presenza la mindfulness è che è una cosa che facciamo noi e che possiamo fare sempre quando scegliamo di farla e questo è importantissimo capirlo che facciamo tutto noi quando hai imparato come cambiare il tuo stato interno in positivo cioè sei passato passata da una situazione dove non eri tanto presente eri un po' in uno stato dove c'erano tanti pensieri eri confusa o magari non ti sentivi bene e hai fatto un qualcosa intenzionalmente hai cambiato il tuo stato d'umore hai cambiato il tuo stato d'animo hai aumentato il tuo livello emotivo vibrazionale voilà il gioco è fatto continua a farlo o continua comunque a renderti consapevole che tu puoi cambiando la tua attitudine cambiare il tuo stato emotivo il tuo stato energetico questo è quello che ci insegna la mindfulness la mindfulness ci insegna a poter cambiare il nostro la nostra attitudine che è poi quella che pregiudica come noi ci sentiamo maria scrive ci sono momenti in cui in testa ci sono così tanti pensieri che vorrei urlare questa tecnica per ritrovare la presenza credo potrà aiutarmi grazie mille prego continua continua sempre a essere principalmente focalizzata sul corpo su quello che percepisci con i sensi fisici ascoltati fai sempre caso a quello che senti come mi sento e quando ti accorgi che il tuo sentire interno come ti senti emotivamente è collegato a un pensiero se quel pensiero è negativo lascialo andare fai tutto quello che puoi per focalizzarti invece su un qualcosa di positivo ma ti consiglio però non di scegliere magari un pensiero positivo potrebbe anche se funziona fallo ma se riesci cerca invece di focalizzarti sul qui ed ora su qualcosa che tu stai facendo fenomenologicamente cioè qualcosa che si manifesta attorno a te nella 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 realtà concreta non nella tua mente perché più ti alleni a essere presente e a a notare i fenomeni cioè quello che fenomenologicamente appare ma non nella tua mente appare perché obiettivamente è successo e più riesci a essere presente più riesci a comprendere che che i pensieri sono sono solo proprio cose astratte sono proprio solo cose artificiali che hanno ben poco a che fare con la realtà di chi noi siamo veramente e hanno solo tanto a che fare con dei con dei con dei film con dei condizionamenti mentali dico così perché tutte le persone che si fanno dei film catastrofici tutte le persone che soffrono di ansia sono persone che hanno ereditato una mentalità negativa sono persone che hanno hanno imparato a farsi dei film negativi se non fossero state esposte a un sistema familiare educativo ma guarda in che mondo viviamo il nostro sistema culturale è molto negativo i film sono molto violenti si parla sempre della lotta tra il bene e il male insomma la paura è sempre il tema che alleggia nell'aria il renderci consapevoli del fatto che invece la realtà è molto diversa cioè parlando noi personalmente e obiettivamente parlando non penso che abbiamo motivo di avere paura di niente di nessuno proprio solo dei nostri pensieri cioè non c'è nessun motivo per cui quando siamo a casa tranquilli proviamo ansia se siamo focalizzati sul fatto che siamo in casa nostra e non c'è niente nessuno che ci sta minacciando le uniche minacce nostre sono i nostri pensieri nient'altro sono delle storie ma i nostri pensieri sono potentissimi se no se io credo ai miei pensieri io posso o esaltarmi o deprimermi o insomma le casistiche sono infinite e io ho solo generato un pensiero ma quando io genero quel pensiero sia che mi esalto o sia che mi deprimo io non sono presente se io invece riesco a essere presente qui a essere consapevole che sono seduto su una poltrona che sono qui che sto conversando con voi e che è perfetto quello che sta succedendo io non ho più da pensare a quello che farò quello che non farò perché più io sono presente e più quello che quello che mi spinge a fare una cosa o non fare un'altra cosa è un impulso fenomenologico è una cosa organica lo si vede sempre durante le costellazioni familiari per esempio si lavora molto in modo fenomenologico e ripeto la vita è una costellazione cioè se noi riuscissimo a vivere sempre ancorati nel nostro essere cioè presenti a chi siamo ascoltando il nostro corpo essendo consapevoli di quello che sentiamo quello che succede attorno a noi senza ascoltare i pensieri ma osservando noi riceveremmo sempre le risposte di cui abbiamo bisogno e molto probabilmente ancora prima di esserci fatti le domande noi avremmo già le risposte cioè ancora prima di aver chiesto dove voldremmo andare noi ci arriveremmo già perché perché saremo connessi perché fenomenologicamente ci sono cose che ci fanno capire dove andare provate a fare questa cosa se avete una domanda pressante nella nostra vita nella vostra vita magari fatevi la domanda però la risposta non cercatela nella mente razionale nei pensieri che vi arrivano subito dopo a meno che quei pensieri non vi arrivano proprio in uno stato di profonda meditazione però da quel momento in poi fate caso a quello che succede attorno a voi cioè fenomenologicamente a quello che la vita vi propone ma come fatti concreti io vi assicuro che troverete la risposta alla domanda magari qualcuno vi dice proprio quella cosa che voi capite che è già quasi una risposta alla vostra domanda o vedete un qualcosa non so scritto su un cartellone pubblicitario o su un giornale capite cioè un qualcosa che è fuori di voi che poi anche qui discutibile cose dentro cose fuori ma qualcosa che fenomenologicamente materialmente è fuori di voi vi sta portando in una direzione o in un'altra invece che credere a questi pensieri che genera la mente che possono essere conflittuali uno dice una cosa l'altro dice un'altra e non sappiamo più dove andare e andiamo in tilt capite se noi riuscissimo a essere presenti e a essere aperti ripeto e a avere fede fiducia il fidarci da fidarci che la vita ci dà le risposte alle nostre domande e ci porta dove noi desideriamo andare senza che noi ci raccontiamo troppe storie nella nostra mente diventa tutto più facile ma visto che avete scritto mi fa piacere voglio connettermi con quello che avete scritto Maria Rita scrive arriva a me quello che è destinato a me ah scusa arriva a me quello che è destinato a me wow se sono presente a me grazie 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 e sì se sei presente non può arrivarti quello che è destinato a te è semplicissima no non non ha bisogno di spiegazioni questa cosa pensiamoci tutte le volte che noi pensiamo i pensieri sono energie i pensieri alterano condizionano il campo i pensieri sono energie sono cose quando io ho diversi pensieri io faccio una grande confusione perché la penso se mi focalizzo su un pensiero do energia a una cosa sto già creando una certa cosa se do energia a un pensiero contrastante sto già creando qualcosa di contrastante all'allà dove vado rimane un veramente rimane un caos un casino impazziremmo infatti le persone impazziscono per vivere bene e quella la cosa il paradosso è veramente è importante invece uscire di testa che sembra ma no però veramente per non impazzire viene uscire di testa cioè non non trascendere la mente uscire dalla mente essendo presenti certo certo come ripete dicevamo prima come diceva Silvia i pensieri vengono e va bene però noi non siamo quei pensieri noi li guardiamo quando non non diamo ascolto non diamo troppa corda ai pensieri ma credetevi loro dopo un po' si stufano è come se è come comunque non hanno più quella carica energetica forte così di noi e noi riusciamo a fare spazio per quello che veramente c'è come facendo caso a quello che vedo quello che vedo ai lati del campo visivo quello che sento con il corpo che percepisco con le orecchie i gusti in bocca i profumi e apro spazio apro spazio creo quello a me piace chiamarlo il centro vuoto dentro di me e mi apro mi apro questo è importante consapevole che tutto quello che arriva è opportuno per me capite questo è importante perché se io mi apro pensando che oh mamma mia mi apro ma chissà cosa mi arriva ci si vorrebbe qualcosa di negativo io me la sono già quasi tirata la cosa negativa capite in quel caso lì allora non non aprirti rimani chiuso tanto più o meno non so qual è peggio non so se mi spiego questo per dire che la nostra il nostro stato di presenza e la nostra attitudine e il nostro credere di base sono tutte cose che entrano in gioco e sono tutte operative sempre non è che una possiamo ignorarla cioè se io non se io non sono consapevole in me stesso che la vita è veramente perfetta così com'è e che non c'è niente nessuno da cui io debba difendermi perché sono un tutt'uno con tutto da cosa devo difendermi quello lo so io questa la mia vita mi dimostrerà questo quello che io credo molto probabilmente se io invece credo e ti faccio la domanda tu in cosa credi se tu invece credi hai che ci sono persone cose situazioni da cui io devo difendermi perché se no chi succede chissà chi chissà cosa la tua esperienza sarà diversa ne sono sicuro perché perché io fino al 2002 i primi 32 anni della mia vita io vivevo così io pensavo che dovesse difendermi da tante cose da tante situazioni da tante persone era una calamita per la sfortuna era una calamita per le cose negative adesso che invece ho semplice perché non sto dicendo che è come dico io io sto dicendo che quello che noi crediamo cambia la nostra esperienza per cui lo devo dire perché so che ci sono persone che la vedono diversamente da me e magari è vero come credono loro e non la mia non come la vedo io però io sto dicendo che adesso non dico che sia così ma dico che io adesso ho scelto di credere che il male non esiste che non c'è niente nessuno da cui io debba difendermi e la mia esperienza di vita a livello proprio fenomenologico è cambiata tantissimo io dico solo questo detto ciò lo so che tante persone non la vedono così e va bene così per cui chiediti chi sono io in cosa credo in cosa non credo e allenati a essere presente osserva guarda osserva i tuoi pensieri osserva la correlazione tra i tuoi pensieri le tue emozioni quello che vivi e di lì ti conoscerai sempre di lì più di lì riuscirai a unire i punti no che ti fanno capire che cos'è che fai che ti porta in una direzione cos'è che non fai che ti porta o non ti porta in un'altra direzione maria rita scrive arriva a me quello che è destinato a me ah scusa l'ho letto sì maria rita sempre scrive una canzone un estraneo una frase lasciar fluire sì lasciar fluire lasciar fluire con consapevolezza questo è importante non lasciar fluire senza far caso a quello che succede no lasciar fluire con molta attenzione però cioè io lascio fluire sono però consapevole allo stesso tempo del quel pensiero che mi è arrivato che mi dice una cosa di quell'altro pensiero di quello che qualcuno mi ha detto qualcuno che non mi ha detto di quello che sta succedendo di quello che non sta succedendo io osservo sono molto presente e sicuramente agisco non agisco onorando quello che sento non è che faccio lascio che succeda tutto senza fare niente ma senza giudizio senza giudizio questa è la determinante onorando quello che io sento di fare o non sento di fare senza pensare che io faccio o non faccio una cosa perché un qualcuno o un qualcosa è sbagliato è malvagio o è brutto o è buono capite? è questo quello che voglio dire se c'è un qualcosa secondo me dal cui potremmo difenderci è l'unica cosa negativa è proprio il credere che ci sono le cose negative il credere nel giudizio negativo questo però non vuol dire che io faccio tutto quello cioè che io faccio tutto o non faccio niente o insomma io continuo a fare tutto quello che voglio fare ma perché io mi sento che voglio farlo o no o no ma focalizzandomi su di me non focalizzandomi fuori analizzando giudicando la persona o la situazione poi scegliendo in base alla determinante al di fuori di me capite cosa voglio dire è per questo che dico quando io onoro come mi sento e so che scelgo intenzionalmente di sentirmi bene e di evolvere pur avendo affrontando magari situazioni difficili pur sforzandomi pur lavorando su me stesso ma scelgo di che il mio livello emotivo e di consapevolezza aumenti io vibrazionalmente molto probabilmente sto già attirando situazioni persone che mi aiutano al mio processo evolutivo capite quando io invece se io invece credessi che e qui si entra nel giudizio che non serve a niente se io credessi che ci sono situazioni negative che io voglio evitare persone negative che io voglio evitare non è detto ma molto probabilmente io le sto già attirando a me proprio perché c'è una carica emotiva energetica tutte le volte che io giudico un qualcosa io lo sto già attirando a me in qualche modo il giudizio è il collante più forte dell'universo il non giudizio l'apertura l'accoglienza totale l'empatia la comprensione è invece il solvente il solvente più potente dell'universo per quello che dico sempre che secondo me il non aver paura di niente di nessuno è forse se ci fosse qualcosa qualcuno da difendersi la miglior difesa e questa è la cosa paradossale perché non sto dicendo che le cose le situazioni che vengono giudicate negative non esistano certo che esistono ma quello che le attira noi è proprio il nostro giudizio riguardo a quelle perché se noi riusciamo a passare dal questa persona questa situazione dovrebbe essere diversa è proprio terribile che vedi comunque già queste parole generano già un certo di emotività quando io invece passo da questa attitudine a un'attitudine questa situazione questa persona è opportuno che sia così perché io non so il perché non lo so il perché ma non importa non perché devo sapere il perché però se è successo se sta succedendo se si sta comportando così e va bene così se vedi come già cambia l'attitudine però da questa e da questa situazione comunque io posso comunque poi agire io posso allontanarmi però a me questa situazione questa persona non piace non risuona con me e allora mi allontano ma dipende quasi come l'acqua e l'olio quando abbiamo un'attitudine aperta presente non giudicante empatica come l'acqua e l'olio le cose si sistemano si allontanano e cosa ha cambiato l'esperienza non è la persona non è la situazione è la mia attitudine io avrò sempre e solo potere e controllo sulla mia attitudine il desiderare di controllare di avere potere sulle situazioni sulle persone esterne crea stress crea stress a noi non ci fa bene e continua a mantenerci nella confusione ovviamente e probabilmente è una cosa che non constaterò mai il fatto che se tutte le persone sul pianeta scegliessero di credere che è tutto perfetto così com'è e che il male non esiste se veramente cambiasse qualcosa secondo me sì perché a livello energetico ci sarebbe un un shift proprio un 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 cambiamento potentissimo però questa non lo so mi piacerebbe poterlo constatare però se la matematica non è un'opinione e se a livello proprio metafisico esoterico noi creiamo con le nostre convinzioni con i nostri pensieri come ha detto Shakespeare è proprio così l'unica l'unico male è credere che il male esista oh come sempre quest'ora è volata grazie di essere stati con me spero che riusciate sempre a essere presenti 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 grazie buona estate il nostro ciclo di 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 rette mattutine è finito appunto vi auguro una buona estate vi voglio tanto tanto bene se volete contattarmi per qualsiasi cosa sapete come come dove trovarmi e ciao ciao ciao